Padre Guglielmo Gattiani Ormai talmente popolare da essere considerato il padre Pio della Romagna Si tratta di una produzione fortemente radicata nella storia religiosa e civile della regione Emilia-Romagna E arricchita da sorprendenti testimonianze che raccontano le vicende di un frate semplice Segnato da frequenti penitenze, vestito di un povero saio rappezzato Sempre a piedi scalzi in qualsiasi stagione, dolce e autorevole allo stesso tempo Una narrazione intensa e illuminante fatta da chi ha avuto con lui esperienze dirette E da chi ne ha raccolto l'eredità spirituale Un uomo che ha segnato e segna tuttora la vita di migliaia di persone Di ceti e provenienze più disparate Che si rivolgono a lui per trovare conforto, ascolto, benedizione e speranza L'aura di santità di padre Guglielmo è più che mai confermata dal processo di beatificazione e canonizzazione attualmente in corso Ed il congresso dei teologi del di Castero delle Cause dei Santi Ha riconosciuto in modo inequivocabile che questo umile frate Ha esercitato in modo eroico le virtù della fede, della speranza e della carità Il film è diretto da Roberto Vecchi Che ha curato i contenuti insieme a Simone Ortolani Con il quale aveva già realizzato un altro importante film dedicato al cardinale Ersiglio Tonini Le riprese sono state realizzate a Cesena, Sorrivoli, Faenza, Castel San Pietro, Lagrimone e Querceto nel Parmense A Badi sulle colline bolognesi, a Ravenna e a Treviso Registrando preziose testimonianze di vescovi, sacerdoti, confratelli che hanno condiviso con lui anni di vita religiosa Monache di clausura, fedeli delle più disparate provenienze E amici e conoscenti vicini a questo carismatico frate francescano morto il 15 dicembre 1999 Parte della produzione del film è sostenuta dalla provincia religiosa dell'Emilia-Romagna dei frati minori Cappuccini Con il patrocinio delle diocesi di Cesena-Sarsina e di Parma Hanno inoltre offerto il loro contributo il credito cooperativo Ravennate, Forlivese e Imolese La fondazione Frutta d'Oro Orogel e la Proloco di Badi Oltre a singoli sostenitori privati il cui nome, se farà loro piacere, sarà inserito nei titoli finali del film Considerando l'enorme impegno richiesto da questa produzione Che strada facendosi è sempre più ingigantita in termini di importanza religiosa, culturale, storica ed umana E che prevede ancora diversi mesi di impegno per il montaggio e la post-produzione Chiunque desiderasse a sua volta contribuire alla realizzazione del film Può farlo andando sul sito www.padreguglielmogattiani.it Seguendo le procedure indicate www.padreguglielmogattiani.it Grazie a tutti.